Sei un po' ridicolo, scendi, dai, ti faccio cascare ma come arrivi All'assalto! Ah, che bella giornata oggi, che bella giornata, vero Fede? Ho ragione? Ciao Steph! Dai, vieni qui, dai No, non torno, Steph Vai da brava, Fede, su Non me lo dovevi fare questo, cioè, è troppo, Steph Ma, ma Quando si oltrepassa il limite, si oltrepassa, cioè, basta Ma che limite abbiamo oltrepassato, scusami? Eh? Guarda che bel faccioni che abbiamo qua, scusa, guarda che bel sorriso Un angioletto Tu mi hai preso tanto in giro con i miei, cara E la faccia da impecille, smestila, ok? Allora, colpa dei consolini che avevano lasciato un botto di likes e dimmi, cara Perché lì giù sta prendendo fuoco il mio, ah, smesso, c'era un mio lucky block che stava totalmente prendendo fuoco e non capivo Meglio così Ok Dicevo, colpa dei consolini che hanno messo un botto di likes, siamo con il lucky block di Fede Eccoci qua, un bel facino, pronto, pronto, pronto Scusami E oggi abbiamo anche una sfida abbastanza particolare Ok Perché ho pensato, ogni volta li chiamiamo lucky race, ma di gara c'è ben poco Quindi questo oggi davvero facciamo una gara Allora, il circuito è piccolissimo Ok Devi raggiungere la fine, tornare indietro, andare nella corsia alla tua destra, in questo caso alla tua sinistra Esatto Ok Fare tutta la seconda corsia, completarla tutto, ok E il primo che arriva alla quinta corsia, ovvero questa qua di centro Questa gialla, ok La inizia L'altro dovrà cercare di raggiungere quello che ha iniziato questa corsia, quella spada, ed ammazzarlo Bellissimo Ok Se la ammazzi prima che finisce, vinci tu Ok Se invece quello lì riesce a finire, la quinta corsia vince Ci sta, dai Ok È una vera propria gara Allora, pronta? No 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 Dai che era spacchiamolto faccione Basta, ti ho detto 3 2 1 Via Cioè mi mette in imbarazzo sta roba, sinceramente, rompe la mia faccia Allora, questo sono obbligato subito a romperlo, ok Oh cavolo, oh cavolo, no, 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 no Come faccio? Non un'arma Cavolo Mi sto vogliando delle vele d'oro, non so come fare Quanto, raga, quanto reggerà? Molto Uh, ok, ok Pensavo fosse più forte, sinceramente Porca miseria, ok Ce l'ho fatta anch'io Credo, no, se ne sta scappando Ti prego, dammi un'arma Ah, mi ha dato 10 diamanti così a caso, grazie Non me ne hai un altro Mangia, 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 mangia Cos'è sta roba, no Qua io non voglio rischiare, quindi facciamo Ok Opla Hai un'arma, per caso? Ehm, adesso forse Mi serve aiuto Rana personale La ferra è una gara Mi serve aiuto Ascolta, lo mando via Quando Sono caduta la lava pensando a quel coso Ok Ok, ci sono Continua, 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 continua Ma dai, basta Non devo trovare fisso altri lucky block di ferie Ok, perfetto Ok Mangia, 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 mangia Eh, va bene, ma uno peggio dell'altro ne sto trovando Ma È morto da solo, sì Stef Lo so che sei scarsa a fare cose precise Ma c'è un limite nella vita Stef, ma perché cavolo non mi hai dato un'arma almeno iniziale? Cioè Allora, ho un Blaze Che mi sta attaccando Degli slime giganti E anche degli Enderman Gli slime giganti sono tuoi o sono miei? No, sono miei Ah Un Enderman che si chiama Slenderman Perché si chiama Slenderman? Non lo so Ma mi vuole attaccare pure quello Credo che one shot ti Perché qualcosa a me ha Istante distrutto Basta con questi lucky block di ferie Ok Sono terribili Stef Sempre stesse cose Ok No Dai, smetti la Blaze Basta Ma quindi questa è utile Scappo Non mi sembra, raga, che faccio più danno Non mi sembra Speravo fosse una di quelle armi potenziate Che fai Ah, fortissima Invece non sembra proprio Vai nella lava Vai, vai un po' a nuotare Dai Vai Ok, vai, ce l'ho fatta Stef, io penso rimarrò qui per sempre Mangio, 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 mangio Mettila dietro a Corvi Non ti lamentare Sono i tuoi lucky block Quindi non puoi lamentarti Opla Opla Ma è possibile il parkour nella lava? No, perché non riesco a farlo Io metto sempre dei blocchi Abbiamo i blocchi Ah, vero che i blocchi, sì Sinceramente No, perché sinceramente Cercare di farlo con un Blaze Che ti sta sparando Palle di fuoco E ti sbalza in avanti Stai com'è Non è proprio semplice Io sto continuando a cercare una cavolo di arma Ma non trovo nulla Basta Continuo a morire Non ne posso più Ok Vabbè Vabbè Ok Oh cavolo Lo torno indietro C'era un lucky block qua Oh, biscotti Buoni Mi serve una spada Stef Buoni Buoni Fede, io soltanto Una di quelle cose per farmare la terra Che non mi viene Non so perché l'ho in questo momento Allora, finito il primo Eh, no, non è la pala Lo è L'ho trovata anch'io Solo per quello Aia Ok, la spada Ce l'ho, ce l'ho L'ho trovata L'ho trovata Ma schifo Non ha vita Dalla propria stessa pista Quindi Bisogna fare tutto al contrario Non si può passare dai bordi Da cose varie E quindi è di una fatica Impressionante Ok 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 Stanno succedendo cose strane Corri Stef Opla 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 Come è messa? Cavolo sta finendo No, non ho visto la lava Vabbè Morto Tanto era arrivato alla fine Allora, quindi adesso devo andare qua Basta Creeper No, no, no Devo finire Lasciatemi in pace Devo finire Ok Va bene No No, il tuo Blaze mi sta attaccando Eh, te l'ho detto che è un problema Non riesco a farlo fuori Ma Vediamo se ci riesco Questa è forte Oh È morto? Bello, sì Avevo un'arma che non ha vita Ma è fortissima E quindi con un colpo L'ho one shottato Ottimo Ok Il problema è che non so se ho finito la gara Quindi devo andare un attimino alla fine Perché non so se ho spaccato l'ultimo Ah, ok Sono morta totalmente Però devo andare a controllare Ho avuto il dubbio Sì Opla Al momento sono parecchio in vantaggio Però dipende tutto dall'equipaggiamento che continuiamo a trovare Tipo Le vines non sono una cosa molto utile Posso smetterla di avere fame ogni tre secondi e mezzo? Eh no Così è una piccola richiesta Ok Level up Via, via, via No, no, no Amico Amico C'è un recinto Tra me e te Per un motivo Sì Esplodete tra di voi? Non mi avvicinerò mai più a lui Non pensavo Ma c'è se è one shot Raga One shot Ok Continuiamo la gara Continuiamo la gara Quindi l'hai finita la prima? Non lo so Stef Solo un attimino Intrippata con due creeper Per un attimo pensavo di essere crashato Cos'è sta diavoleria? Ma che mai scatta tutto? Allora Sì l'avevo finita Questi qua sono friendly creeper alla fine Cercano di esplodere ma non esplodono Ok Fer ha vinto Perfetto Quindi ho finito con la parte di gara Sto facendo la seconda Basta Non mi seguite Quindi non esplodono? Vabbè ormai l'ho ucciso No, non lo so Vediamo Mi è capitato anche a me No, non esplodono Vabbè seguitemi Ok Oh ma qua ho trovato tre lati Ciao Jeb Ti devi un attimo togliere Perché in sto gioco Ti rimette l'auto jump Ogni giorno della tua vita Io lo voglio scoprire prima o poi Jeb 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 Ok Dovevo aprire Io non devo care nella lava Ok Bravo Vai nelle altre corsie Vai a salutare Fer Facciamo così raga Ma che sto trovando? Ok Perfetto Princess Vettro Beh mi sembra logico Ho trovato la good luck Ok un piccone però fa davvero comodo Eh Enhanza del level 20 Se il touch Ok 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 Secondo me questo può essere utile Quindi dare in poi Il problema Steph È che io non sto trovando neanche un'arma Cioè come fanno a essere i miei lucky block Se non hai messo delle armi bellissime qui Non l'ho messo Ho appena trovato una spada No raga È buggato? Cioè sto trovando solo No raga sei buggato Non sapev Cosa stai trovando? Praticamente spacco il tuo lucky block E li trovo sempre solo un altro lucky block Ah Ti sarà buggato in qualche modo? Ho risolto Ti ho bruciato nella lava Grazie No 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 Il karma mi ha fatto bruciare a me Ok Mi si è buggato il gioco Ok Ok Io sto andando eh Quindi è solito che si è buggato Steph Mi dispiace però Ufficialmente? Ah Che succede? È colpa del piccone È colpa del piccone Ok non posso usare quel piccone No 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 Ok perfetto Comunque io ho trovato un'arma ed è una freccia Ah E la uso come arma Ok Ed è forte È forte forte Ci sta Ok allora quindi Ho quasi finito Steph Io ho finito il secondo cara Ok io quasi Sto cercando di tornare indietro Ok Opla 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 Ma ok ho finito anch'io Ma adesso come passo a quello giallo? Devi tornare completamente indietro ripercorrendo il tuo stesso percorso Quindi quello che ho appena finito Esatto E il primo che torna Ma pure la tornata indietro Cioè è difficilissimo Già perché così devi billare e fare parkour È un casino Ok 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 Allora raga bisogna mangiarmi un attimo di carne Veloci 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 Ok Ce la posso fare Ok Non posso perdere i miei lucky block Steph se tu li vinci sei morto Te lo dico già No non funziona No non è giusto perché funziona così Se sono i miei devo vincere io È giusto eh Lo stanno pensando tutti qua che li devo vincere io solo perché c'è la mia faccia Dai Ok ok È arrivata la fine Quindi vado in quella gialla? Cosa? Vado in quella gialla Sì ma devi tornare all'inizio Come devo rifare di nuovo? È vero Cioè tu hai finito la tua gara e sei tornata alla fine Sì mi hai detto di tornare indietro Devevi tornare all'inizio No faccio il contrario ma Come vuol dire il contrario? Quando ci incontriamo ci uccidiamo No non mi piace Sì No ho iniziato Mi hai fatto andare indietro tu Steph Ti ho anche chiesto spiegazioni Tu mi hai detto chiaramente che era così Quindi Non hai capito una mazza No non rompere Steph Hai sbagliato tu Questo sono obbligato a romperlo Ok Ho trovato una bella spada finalmente Quindi Steph Fai attenzione Sei un po' fregato credo Ok Cosa sta succedendo esattamente? E poi dov'è quella lì? Ah eccola l'ho vista L'ho vista l'ho vista l'ho vista Via Maledetto Ok E quindi mi vuoi affrontare? Sì Va bene Tu sei da quella parte? Sono poco più avanti cara Ti vedo mangiucchiare qualcosa Ciao cara Ah questi non esplodono tanto Come stai? Stai portando dietro pure tu Perché hai una testa di uno scheletro? Come va cara? Combattiamo? Vieni a combattere Tu hai una freccia Io una spada Vediamo chi vince no? Srutto anche il mio vantaggio di posizione Smettila Tipo Questo sarà un attacco Uh Cioè ti sei fatto un castello portatile senza volerlo Esatto Io ti attacco dall'alto No Stef Ma che spada hai trovato? Allora una bella spada Con un sacco di Di tutto Di tutto Cioè fa un sacco di danno L'avevo trovata anch'io Ma l'ho sottovalutata Perché non avevo letto gli effetti No no Fa un botto di danno Quindi Stef Stef è normale Che la mia superiorità Venga fuori Nel momento in cui sono i miei lucky block No? È normale che Stef invece Deve bruciare come uno scemo Vieni qua Dove sei finito? Voglio la rivincita Non puoi Ti sto puntando Ho il tuo castello Non so dove sei però Ho il tuo castello L'hai sponato a caso Non è mio Ho il tuo castello Stef Non ho paura Che vuoi fare? Sotto il mio vantaggio di altezza Ma non è vantaggio di altezza All the ground Scendi Sei un po' ridicolo Scendi Dai ti faccio cascare Ma come arrivi All'assalto Cioè questo Stef È come si definisce Il fare proprio pena Totalmente Cioè sei morto in volo Video finito I lucky block di ferie Fanno schifo Sono bellissimi Quelli di Stef Sono molto più belli No 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 Non ci provare Stef Questi video non mi piacciono Finiti i lucky race Adesso non piacciono a te Capito? Quando perdi non ti piacciono Finiti i lucky race Faire hanno rotto Quanti li avevo fatto? 15 Ormai sono monotoni Hanno rotto le scatole Faremo altro Da di in poi faremo Ok Non ci credi neanche tu Però va bene Le gare Di blocchi normali Invece che di lucky block Non esistono Tu avrai del legno Da tagliare Non esiste Di palegnameria A chi taglia la legna Più in fretta Va bene Una bellissima sfida In ogni caso Ci rimaniamo così Speriamo che il video Vi sia piaciuto Qua sotto come sempre Compagnate in altri video Iscrivetevi al canale Campagnolini E ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao